Hola Iro, bentornati in questo canale, benvenuto in questo nuovo video, anche questo video un po' particolare come quello che hai visto precedentemente, se l'hai visto, ti abbiamo condiviso gratuitamente, abbiamo deciso di pubblicare effettivamente quello che era il nostro report, la nostra previsione per il 2020 in ambito di mercati, come abbiamo investito nel 2020, in questo report ti voglio condividere, ti voglio mostrare con quello che vedrai da qui a poco, come abbiamo investito invece dopo il coronavirus, quindi da marzo in poi. Avevo fatto anche un video precedentemente dove ti mostravo un piccolo estratto di quello che ci aspettavamo e cosa è accaduto, qui però voglio mostrarti più nei dettagli cosa ci ha spinto a prendere quelle decisioni, quindi ho deciso di pubblicarlo gratuitamente anche perché da una parte non sono chiaramente più funzionali queste intuizioni, in quanto quello che doveva succedere è accaduto e poi vedrai che si è anche concretizzato, però mi fa piacere perché alcune idee restano assolutamente valide e questo ti permette di guardare dietro le quinte cosa sta alla base e all'analisi, dei nostri ragionamenti. Inoltre prima di andare avanti, prima di lasciarti effettivamente a guardare questo seminario, questa Masterclass che ti regalo, ti invito nel caso non ti fosse ancora iscritto, il 27 dicembre ad iscriverti alla nostra Masterclass online, il nostro webinar che terremo, durerà 3-4 orette in cui saremo insieme e ti racconteremo quali sono invece le nostre idee di investimento, come stiamo posizionando i nostri portafogli da qui al prossimo anno, quindi come investiremo nel 2021. Travi qua sotto il link, ora ti auguro una buona visione, ciao! Ditemi di sì, ditemi che vedete anche, così che partiamo. Ok, bene, 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 allora non mi sto a presentare perché tanto la stragrandma maggior parte di voi mi conoscono e chi non mi conosce mi ha già un po' anticipato Luca. Allora, di che cosa parleremo questa sera insieme? Parleremo, almeno io vi parlerò di quello che è un po' il mio campo, quindi le azioni e gli ETF, parleremo un po' di speculazione finanziaria. Iniziamo con un piccolo disclaimer che comunque Luca ha già fatto, è stato bravissimo, qui ognuno riceverà delle informazioni, riceverà delle idee, degli input, delle rielaborazioni, quello che io penso che possa accadere da qui in avanti, che è semplicemente quello che sto facendo io in questo momento, lato finanziario, che farò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se si verificheranno degli scenari o comunque nello stato attuale, visto che alcuni scenari interessanti si sono già verificati. Ovviamente, qui io non sono un promotore finanziario, sono semplicemente un trader e un investitore, quindi prende anche tutte le informazioni. Leggiamo rapidamente questo risk disclaimer, un po' necessario, un po' obbligatorio. La prima cosa è che nessuno chiaramente può prevedere con esattezza il futuro, non sono un promotore finanziario, sono un trader, un investitore, ve lo ripeto, gli asset, gli investimenti, le idee di portafoglio presentate questa sera, non possono non essere adatte a tutte le tipologie degli investitori e sono rappresentative e esplicate un po' a titolo educativo. Perché? Perché non è detto che tutti gli investitori debbano investire in azioni, debbano investire in ETF. Questo perché è uno strumento che può essere più o meno volatile e può essere gestibile da qualcuno e da qualcuno no, perché magari qualcuno soffre gli andamenti, per qualcuno fanno di più gli investimenti immobiliari, per qualcuno fanno di più magari altre tipologie di investimenti, quindi non per forza sono adatti a tutti. È importante informarsi, sono sicuramente strumenti interessanti in un portafoglio diversificato, quasi essenziali, però non è detto che sono per forza adatti a tutti. Un altro punto importante, come ha già anticipato Luca, è questo. Se queste informazioni ti ispireranno, ricordati comunque di formarti e informarti autonomamente, perché uno non è detto che quello che io ti sto dicendo è la verità assoluta, e in secondo luogo se metterai tutto in discussione e ti andrai a informare, magari poi giungerai alla stessa conclusione, giungerete alla stessa conclusione, però avete sicuramente imparato qualcosina di più che magari la prossima volta vi serve. Un altro punto importante, secondo me il punto più importante è il numero 5. Un'attenta diversificazione dei rischi, degli investimenti, può minimizzare i rischi. Quindi molto spesso mi chiedono, ma devo iniziare a investire in azioni, devo investire in ETF, nel mercato finanziario? Ma dipende, dipende come è il tuo portafoglio, dipende quanto è diversificato. Io sono per la diversificazione universale, lo vedrete bene anche in questo webinar, in questi momenti che passeremo insieme, perché è importante, perché ci sono un portafoglio di investimento, dove noi mettiamo tutte le uova all'interno di azioni, di ETF, anche se è un portafoglio diversificato, non va bene, bisogna avere una diversificazione immobiliare, finanziaria, criptovalute e quant'altro. Oltre questo però, per chi si volesse specializzare, questa sera vedremo come si può strutturare un portafoglio finanziario comunque diversificato, diversificato, perché io credo in una logica amatriosca, a me piace chiamarla così, dove noi abbiamo diversi asset, non so, le attività o il nostro lavoro, i risparmi che possono essere la tipologia e poi anche quello che possono essere gli investimenti. Investimenti sono basso, medio, alto rischio, insomma lo sappiamo tutti, all'interno dell'alto rischio ci sono anche le azioni di ETF, per alcuni possono essere ad alto e per alcuni a medio. Bene, ma all'interno delle azioni di ETF non abbiamo solo un'azione, non acquistiamo solo un ETF, andremo ad acquistare più asset per diversificare in settori diversi. Questo è importante, ma non basta, ricordatevi di differenziare il vostro portafoglio a 360 gradi, perché è ciò che vi salverà sempre, in quanto delle crisi possono avvenire in qualunque settore, e se ne abbiamo diversificato abbastanza non le subiremo. Questo è importante, e chiaramente numero 6, Quello che vi dirò io questa sera non è una sollecitazione di investire, ma una condivisione, e poi fate un po' quello che volete. Prendetela come una serata dove un amico vi sta chiacchierando della sua passione, che è quella degli investimenti. Qualcuno, ok. Leggo un attimo in chat, solo vi chiedo questo così poi andiamo avanti. Dicono se sentite, vedete tutti. Ok, mi dite di sì, quindi io vado avanti, spedito. Bene, allora Luca, se qualcuno non vede non sente, a volte perché non ha una bella connessione, però io qua c'ho la fibra e c'ho un microfono top, quindi secondo me ci siamo. Ok, quindi partiamo e andiamo avanti. Adesso andiamo a bomba, abbiamo fatto tutte le promesse del caso, e iniziamo col dire che cosa vedremo questa sera, fatte queste promesse un po' obbligatorie. Io ho diviso questo intervento, che durerà 30-40 minuti, in questi macropunti. Andremo a vedere sicuramente lo scenario attuale, quindi che cosa sta succedendo in questo momento, perché prima di comprendere dove investire, su quali strumenti, su quali settori, è importante comprendere in che mondo ci stiamo muovendo e in che mondo ci muoveremo da qui alla fine di quello che sta succedendo, il coronavirus e altre dinamiche importanti a livello economico, che dobbiamo apprendere. Fatto questo andremo a vedere qualcosa sui grafici, e poi iniziamo a dire, ok, abbiamo compreso lo scenario, abbiamo visto in che situazione sono oggi i mercati, facciamoci delle idee, quali sono i settori in difficoltà, quali sono i settori in crescita, e poi, visto questo, quindi, visto il panorama, visto cosa non va, visto che cosa funziona, andiamo a vedere come investire, o meglio, in che modalità andare a trarre profitto da queste idee che ci siamo fatti insieme. Io ne ho identificate quattro, che secondo me sono estremamente interessanti per lo scenario attuale. Uno scenario che è uno scenario abbastanza particolare, uno scenario senza precedenti, perché io credo che qui in chat, qui in questo webinar, nessuno ha mai vissuto uno scenario del genere, perché l'ultima pandemia seria risale dal mio 929, comunque c'erano diverse condizioni, quindi possiamo dire che siamo in un momento storico assolutamente unico. Una cosa importante da dire è questa, tutte le slide che vedrete questa sera sono state create ieri, quindi non sono aggiornatissime, però abbastanza, nel senso che sui mercati qualcosa è successo, però ha la stessa valenza, quindi poco più, poco meno. Allora, iniziamo a parlare con la situazione più importante del momento, perché sta sconvolgendo tutto dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di abitudini, dal punto di vista economico, sia finanziario che di economia reale. E chiaramente dobbiamo necessariamente parlare di questo coronavirus, il Covid-19, perché a livello sanitario è inutile che ci soffermiamo troppo, entriamo un po' più nell'aspetto economico, però la situazione che probabilmente dovrà ancora svilupparsi, data l'esponenzialità che stiamo vivendo, è assolutamente complessa, sia lato sanitario, ma anche lato economico. Oggi, se non ho letto male, comunque anche l'India dovrebbe essere andata in lockdown, ciò significa che un miliardo e mezzo, quasi due miliardi di persone, in questo momento sono chiuse in casa, sono chiute in casa senza fare acquisti, e anche il settore produttivo si sta tendenzialmente fermando. E questa è una situazione importante. Quindi se questa è la situazione dal punto di vista sanitario, andiamo a vedere che cosa sta succedendo invece dal punto di vista economico. Qui ho messo alcuni titoli di giornali, chiaramente poi i giornali sono molto da oddio bruciati in borsa a 900 miliardi, mille miliardi bruciati in borsa, 100 miliardi bruciati nella seduta. Quando di fatto in borsa, noi lo sappiamo, non si bruciano i soldi, semplicemente le borse crollano perché chi aveva investito in un determinato settore prende quei soldi e se li riporta liquidi oppure li prende e li sposta in altri settori. E noi stasera cercheremo di comprendere dove si stanno, dove si sono spostati i soldi e dove si sposteranno. Qui alcuni titoli SP rivede le stime di crescita, sarà una recessione globale. Borsa, tonfo di piazza affari, fuzzimib, quindi l'indice italiano, meno 16.9. È il peggior ribasso della storia. Wall Street almeno, Dow Jones almeno 10%. Sostanzialmente ci dicono questi titoli che abbiamo vissuto alcune giornate di borsa che sono state tra le giornate più nere della storia dei mercati. Soprattutto data l'altezza in cui erano i mercati, c'è stato un crollo in termini di punti incredibile senza precedenti, con una velocità disarmante. E questo sostanzialmente a che cosa è dovuto? Ma chiaramente al coronavirus. Ma che cosa comporta il coronavirus e cosa avviene insieme al coronavirus? Intanto, come abbiamo visto prima, la parte del lockdown, cioè la chiusura forzata di tutte le attività produttive e la impossibilità delle persone di circolare liberamente. Questo blocca completamente l'interesse all'acquisto. Infatti la maggior parte dei settori, ma non serve che ve lo dica, sono chiusi, fermi, in disastro. C'è un problema serio, reale. L'altro tema che sta succedendo è che magari vi è sfuggito, magari chi è un po' meno tecnico gli ha dato poco peso, però è un fattore molto importante. Viviamo, provo a riassumermi un po' lo scenario, il momento in cui c'è crisi sanitaria, c'è una crisi delle attività reali, dell'economia concreta, quindi delle attività fisiche, dell'economia reale, mercati crollano, con un crollo senza precedenti, le banche centrali, quale può essere la banca centrale europea, la Fed e quant'altro, cercano di intervenire in tutti i modi, perché se no le aziende saltano, falliscono, anche le grandi aziende crollano se il loro titolo diventa troppo insignificante, cioè si creano degli scenari dove ci sono delle problematiche che vanno anche oltre la parte nazionale, di aziende e quant'altro. E quindi che cosa hanno fatto, cosa hanno provato a fare, cosa stanno facendo per sostenere un po' le aziende, hanno creato, hanno emesso un nuovo quantitative leasing, che è un'iniezione sostanzialmente di liquidità per sostenere la finanza, quindi stanno stampando sia l'Europa che l'America, con la Fed, miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di valuta per acquistare titoli, sostenere gli stati e sostenere anche le aziende. Quindi oggi, qualcuno forse l'ha visto, i mercati sono saliti, il MIB ha fatto l'8%, ma perché l'economia va meglio di ieri? Ma no, l'economia va peggio di ieri, semplicemente l'iniezione di liquidità sta avvenendo, stanno stampando un'infinità di valuta e stanno comprando titoli, quindi gli indici salgono, ma il reale, no, è assolutamente fittizio, nonostante c'è la crescita reale, ma è un pagliativo, però questa è una mia idea, l'approfondiamo brevemente. Però questo per farvi capire, è un tema importante, lockdown, tutti chiusi, l'economia va male, questa è la prima crisi che viene dall'economia reale, perché la crisi del 2008, le crisi al quale siamo stati abituati prima, venivano dalla finanza, dai problemi della finanza e poi a distanza di anni entravano nell'economia reale. Qui il contrario, perché questa volta la crisi arriva proprio da un blocco della domanda e dell'offerta. È la prima volta che la crisi arriva dal basso e arriva poi alla finanza, quindi sarà probabilmente una crisi, un momento, senza precedenti, e questo è molto importante. La Fed, la BCE se ne sono accorta, hanno detto, basta, iniettiamo liquidità, quanta ne serve, anche potenzialmente infinita, per sostenere i mercati. Ma, non è che puoi stampare valuta così a caso, all'infinito, senza conseguenze. Vabbè, questo è un tema. Oltre questo, la Fed ha anche dichiarato, i tassi a zero. Però, andiamo a vedere, uno sguardo sui mercati, questa è una foto di ieri, oggi sono tutti verdi, stranamente, ma per i motivi che abbiamo visto prima, domani, i prossimi giorni, se dobbiamo vedere i mercati in lato reale, questa è la situazione. Ieri era questo, vediamo dei ribassi incredibili, Fuzzimib italiano, meno 33% in un mese, meno 34% da inizio anno, cioè, sono numeri importanti, vediamo l'SP almeno 30%, vuol dire, cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un mese ci sono, si sono mangiati i guadagni degli ultimi 3-4 anni, vuol dire che gli ultimi, i mercati ci hanno messo 4-5 anni a salire, ad arrivare ai massimi, in un mese tutti i guadagni che ci sono stati negli ultimi anni, crollati, distrutti completamente. Infatti, ci sono stati dei crolli incredibili, senza precedenti. e questo è importante, questo lato, cosa sta succedendo? Coronavirus. Ma non sta succedendo solo questo nel mondo, stanno succedendo anche altre situazioni importanti che dobbiamo comprendere, che dobbiamo comprenderle perché queste poi ci portano ad identificare delle idee di investimento, delle possibilità. L'altra situazione che magari avrete sentito, se smalettate un po' la situazione della borsa, è il petrolio. Il petrolio ha aperto un lunedì con un crollo incredibile. Parliamo di un crollo in una giornata sola del 30%. Un crollo senza precedenti per il petrolio. Qualcosa di incredibile. Oggi il petrolio batte 22-23 dollari delle cifre assurde. Infatti qua ho riportato qualche titolo. Borsa americana crolla in apertura prezzo del petrolio ai minimi dal 2002. Petrolio è crollo record per il coronavirus 19 e per le mosse dell'OPEC. Ora andremo ad approfondire. Petrolio a picco perde il 30% in una sola seduta. Quali sono i motivi del crollo? Adesso lo vediamo perché è importante saperlo. Allora, perché è crollato il petrolio così tanto con un crollo così importante senza precedenti? Poi guardiamo il grafico farà brevidire per queste tre motivazioni. In realtà ve ne ho tralasciate alcune ma queste sono le più importanti. Sicuramente è crollato per un crollo della domanda offerta perché è crollata la richiesta di petrolio in quanto sono fermi molti trasporti sono ferme le linee produttive che utilizzavano il petrolio e quindi se ci sono meno persone interessate ad acquistare petrolio e l'estrazione rimane uguale comprendete che il prezzo proprio per una legge economica universale è destinato a scendere. Ma non è soltanto rimasto uguale la produzione. c'è stato qualche settimana fa un avvenimento molto importante in cui l'OPEC che è la riunione che fanno i paesi che estraggono maggiormente petrolio al mondo qui parliamo di OPEC più quindi tutti i paesi allargati che estraggono petrolio al mondo hanno fatto una riunione per provare a mettersi d'accordo nel dire signori qui sta andando un po' tutto in difficoltà nel senso che la richiesta diminuisce non vogliamo mica far crollare il prezzo del petrolio troviamo un accordo tale per cui iniziamo a diminuire l'estrazione così che la domanda offerta come più volte è successo nella storia si riequilibra e manteniamo stabile il prezzo perché è importante mantenere stabile il prezzo perché ogni paese ha il suo costo di estrazione ogni azienda ha il suo costo di estrazione che cosa significa vuol dire che alcune aziende se il costo del petrolio è troppo basso sono in perdita cioè estraggono e perdono soldi ogni barile che estraggono e questo non va bene quindi quando si ritrovano e si creano queste riunioni ci si prova a mettere d'accordo per cui ci sia un vantaggio per tutti e tutti obiettivamente si aspettavano si auspicavano che questo accadesse invece non è successo anzi è successa ancora una cosa più grave ossia che l'Arabia Saudita ha detto no a me non mi sta bene anzi aumento ancora di più la produzione l'estrazione di petrolio e il prezzo è crollato ancora era arrivato a 30 dollari qualche giorno fa l'abbiamo visto a 20 dollari perché non hanno trovato un accordo e continua a scendere il prezzo del petrolio non potrà star così per sempre perché troppi paesi in questo momento stanno estraendo in perdita anche l'Arabia Saudita che forse oggi è l'unico paese che sta estraendo in profitto perché è un paese che comunque ha un corso di estrazione estremamente basso probabilmente il più basso al mondo non può continuare a questi livelli visto che la maggior parte comunque delle sue entrate arrivano dalle imposte messe alle società petrolifere e se queste incassano poco lo Stato incassa poco quindi probabilmente ci sarà un po' di tiremolla ci sarà ancora un po' di guerra sul prezzo del petrolio però non conviene a nessuno che sta a questi livelli e questo è importante da capire ora 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 passiamo allo step 2 e vediamo un po' di analisi grafica ora lo so che qualcuno di voi dice cazzo no dai ma andiamo subito cosa dobbiamo comprare cosa dobbiamo comprare ma se non comprendiamo il panorama nel quale ci stiamo muovendo tutto non perde senso quindi andiamo avanti ora iniziamo ad entrare un po' più nel pratico non ancora nella parte di bene e male però iniziamo a guardare un po' dei grafici allora questi grafici sono aggiornati a ieri questo è il grafico dell'SP500 vedete quello che vi dicevo prima i mercati sono saliti praticamente da anni 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 questo è un grafico se non sbaglio settimanale quindi parliamo di 10 20 30 anni di rialzo ma ad un certo punto i mercati partendo da febbraio ad oggi sono crollati in maniera incredibile esponenziale e vedete sono tornati fino ai livelli del prima del 2000 quando era il 2018 siamo intorno al 2016 sostanzialmente questo è significativo poi ho provato a fare delle proiezioni in questo momento si stanno avverando però vedremo nel senso che abbiamo avuto un po' di rialzo questo le due linee nere sono un'area probabilmente in cui il mercato ballerà un po' perché è una sorta di congestione però lo vedremo intanto mi interessava farvi comprendere cosa vuol dire c'è stato un crollo significativo è un crollo importante pensate che ognuna di quelle candele è una candela settimanale magari qualcuno è abituato a vedere grafici già lo sapeva qualcuno non li aveva mai visti invece non li aveva mai visti in quest'ottica ed è importante un'altra analisi che possiamo fare è quella sul gold invece il gold ossia l'oro l'oro che cosa ci porta a dire intanto l'oro è un bene rifugio il bene rifugio per eccellenza quando le borse crollano quando la gente ha paura quando la parte finanziaria è un po' più in difficoltà l'oro sale chiaramente perché l'oro è una valuta vera cioè gli euro non li stampi quanto ne vuoi che l'inflazione il dollaro non li stampi quanto ne vuoi li butti sul mercato hanno valore pressoché zero hanno valore legale l'oro invece ha un valore intrinseco universale da che mondo è mondo da sempre l'oro infatti è salito molto siamo praticamente sui massimi dell'oro io mi aspetto un momento magari anche qua di congestione per poi andare al rialzo mi aspetto livelli più interessanti il silver parliamo dell'argento qui ora chi segue i mercati ha già visto che c'è stata una crescita significativa ma io me lo aspetto un po' più alto solitamente l'oro e l'argento sono estremamente correlati nel senso che si muovono insieme si muovono un po' all'unisono si muovono molto simili ecco da qualche mese questa parte non è più così non è più così neanche nell'intraday sostanzialmente dove questa è una coincidenza è una correlazione che vediamo molto spesso però io li vedo vedo che prima o poi dovranno riallinearsi e mi aspetto che questo avvenga rialzo anche perché oggi l'argento è molto più sottovalutato rispetto all'oro quindi se dovessi scegliere tra comprare argento e comprare oro comprare argento infatti l'ho condiviso anche qualche giorno fa forse a community o con chi mi segue nei miei gruppi abbiamo comprato argento a 13 dollari quasi sul minimo attuale non sappiamo se sarà effettivamente il minimo ma io me lo aspetto molto 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 più su perché deve riallinearsi all'oro e perché è estremamente sottovalutato e anche l'argento è un bel rifugio interessante questa è una prima considerazione poi entriamo ancora più nello specifico quindi ora facciamo un po' un'analisi macro poi entriamo nello specifico azioni trend e quant'altro e questo è il petrolio guardate qua cosa è successo abbiamo un petrolio questa sono candele e deli che ha fatto un crollo importantissimo ha lasciato un buco nel grafico quello è un gap non è stato richiamato come tendenzialmente accade però verrà richiamato quindi io cosa mi aspetto sul petrolio un momento di congestione magari toccheremo ancora nuovi minimi e poi però mi aspetto che almeno richiudere il gap a 30 35 40 dollari lo vedremo quando non lo sappiamo però non conviene nessuno lo abbiamo visto ora sappiamo sia che tecnicamente dovrebbe rialzare ma anche che c'è un senso macroeconomico nella cosa non che sono soltanto idee disegnini il VIX il VIX invece è un indice poco utilizzato poco conosciuto noi ci abbiamo fatto davvero tanti tanti soldi sul VIX chi mi ha seguito chi mi ha seguito nel webinar che ho fatto dove investiamo nel 2020 il VIX ci ha salvato i mercati hanno fatto almeno 30% noi avevamo una parte del portafoglio nel VIX che cos'è il VIX è l'indice sulla volatilità ossia passo indietro che cos'è la volatilità è quanto si muove faccio facile velocemente il prezzo in un determinato lasso di tempo più si muove veloce come abbiamo visto la velocità importante con cui si è mosso il prezzo a ribasso più la volatilità aumenta e si dice che quando c'è tanta volatilità i mercati è perché nei mercati c'è paura e quindi il VIX viene soprannominato l'indice della paura perché non so se ricordate il grafico di prima sull'SP500 si sale piano 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 si scende fortissimo perché la gente a comprare fa sempre in tempo dice vabbè oggi compro un po' oggi compro un po' quando però iniziano a crollare i mercati si crea la paura tutti devo vendere devo vendere devo vendere velocemente e quindi i ribassi in borsa sono sempre più rapidi dei rialzi infatti c'è questo detto che dice così si sale con le scale si scende con l'ascensore qualcuno dice si scende dalla finestra in questo caso ci si è proprio lanciati giù da 3000 metri e il VIX è salito è salito in maniera importante noi lo avevamo in portafoglio i mercati hanno perso il 30% noi avendo il 5% a leva sul VIX abbiamo guadagnato il 50% quindi ne siamo usciti un po' in profitto però ora è cambiato tutto cioè è finita quella fase di mercato in cui ci si doveva difendere siamo riusciti a difenderci che ha seguito i suggerimenti magari dati dati antitempo ora è cambiato tutto bisogna organizzare il portafoglio e io questa sera lo farò con voi andiamo a vedere adesso questo andiamo a vedere i settori in difficoltà quindi ora vedremo i settori in difficoltà i settori che invece stanno giovando da questa situazione perché ci sono e poi andremo a vedere come guadagnarci bene 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 allora andiamo avanti settori in maggiore difficoltà è inutile che ve lo dica i settori in maggiore difficoltà sono chiaramente il turismo perché è tutto completamente bloccato e con turismo possiamo intendere alberghi ristorazioni e tutto quello che è l'attività locale attività retail trasporti terrestri navali aerei sia legati al mondo del turismo che anche legati al mondo commerciale perché già alcuni big stanno iniziando a sospendere anche la parte di trasporto commerciale quindi proprio la delivery le poste avete visto anche voi ha sospeso la consegna della corrispondenza e quindi ne stanno soffrendo tutti i trasporti turistici e commerciali il mondo degli eventi è forse uno dei mondi che l'ha subito di più la parte di coronavirus tutto annullato oggi sentivo che hanno sospeso addirittura le olimpiadi che li faranno nel 2021 sempre chiamati tipo Tokyo 2020 è un problema significativo quindi tutto il mondo degli eventi dello sport è in crisi nera anche il mondo delle squadre sportive i tour operator i tour in generale e anche le fiere esempio Fiera Milano se andiamo a guardarlo in borsa è una tragedia cosmica il settore manufatturiero tutto il settore manufatturiero non essenziale con maggiori effetti sul settore delle commodity cioè tutto quel settore industriale produttivo che produce prodotti non essenziali magari prodotti che non hanno un brand forte ma che sono prodotti un tanto al chilo cioè che trovi in Italia come trovi in Cina come trovi in America stanno soffrendo tanto la stanno sentendo il settore petrolifero in quanto abbiamo visto il balzo importante che c'è stato nel mondo petrolifero che il petrolio è crollato da 40 50 dollari oggi a 23 24 tutte le aziende collegate stanno estraendo in perdita quindi stanno soffrendo veramente tanto il settore automotive le società produttrici di auto soprattutto nuove stanno soffrendo quali sono quelle poche aziende che soffriranno meno probabilmente le società di automotive che però si sviluppano nel lusso perché soffrono per un momento però la Ferrari per dirne una fra due anni avrà lo stesso interesse sicuramente sì la gente sarà a comprare lo stesso perché chi può permettersene la Ferrari probabilmente in questi momenti magari non soffre qui vi riporto una statistica del Served quindi di Served Italia dove ci riporta un'idea su quello che possono essere i crolli del percentuale per i dieci settori che secondo appunto il Served sono i peggiori in termini percentuali vediamo alberghi agenzie viaggi con operator meno 68 per cento di fatturato probabilmente anche ottimistico meno 64 meno 55 trasporti aeri meno 55 per cento ci sono trasporti aeri Boeing e altre società che stanno chiedendo miliardi di finanziamenti agli stati perché rischiano di fallire stanno rischiando di saltare aziende grandissime il settore dell'automotiva che qua abbiamo visto appunto si prevede un meno 45 per cento veicoli commerciali industriali quello che abbiamo visto prima dei trasporti meno 45 per cento componenti per autoveicoli e altri mezzi meno 45 per cento insomma ci aspettano dei momenti grigi soprattutto in certi settori però ogni crisi ha una doppia faccia della medaglia lo sappiamo lo abbiamo imparato e quindi ci sono dei settori che stanno andando estremamente male e che andranno ancora peggio e dei settori invece che stanno sono lì che si stanno strofinando le mani perché per loro è un'opportunità ci sono settori che in questo momento ne stanno giovando da questa situazione e quali sono? il settore delle telecomunicazioni e dei tools online quindi le società di telecomunicazione quali possono essere le compagnie telefoniche per esempio o i tools online pensate a zoom quanta gente ha iniziato a utilizzare zoom? non a caso se guardate le azioni di zoom sono salite da hanno fatto il per tre mi sembra o il per quattro cioè 400 per cento in due o tre mesi è roba forte le aziende che hanno a che fare con il gaming e lo streaming stanno andando bene quindi tutto il settore dei videogiochi e dello streaming online pensate a Netflix quanti abbonati ha pensate che in Europa ha dovuto abbassare la qualità del full hd perché se no non riusciva a consegnare abbastanza banda i dati a tutti perché troppa gente è collegata a Netflix pensate la crescita di abbonamenti è crollata sì ma gli utili saranno migliori social network tutti i social network stanno riscontrando un aumento di traffico considerevole che poi significa più pubblicità perché quando c'è traffico sui social le aziende investono magari c'è una piccola contrazione nel mercato dell'ADB però neanche così tante però comunque sono dati che si rivenderanno la parte di telemedicine pharma quindi aziende che hanno a che fare con l'health care la biotech la telemedicina appunto la medicina alternativa in questi momenti vanno bene le società di beni essenziali quindi quelle società legate al mondo dei beni primari supermercati prodotti prima necessità in questo momento comunque che se ne dica loro lavorano cioè l'elettricità la paghiamo e la paghiamo il al supermercato ci stiamo andando avete conoscete qualcuno che sta andando al supermercato sì ci sono code infinite e quindi i beni primari di prima necessità ben essenziali andranno sempre comunque sostanzialmente gli e-commerce gli e-commerce sono probabilmente il settore che ne ha tratto più vantaggio in assoluto da questa situazione la media degli e-commerce come crescita è del 75 80% perché tutti sono a casa tutti compran di più e perché non possiamo uscire quindi le spedizioni lato e-commerce sono chiaramente più avvantaggiate un altro settore un po' più delicato che però è giusto mettere è il settore della difesa i settori legati agli ambienti militari droni aerospaziali nei momenti di crisi tendenzialmente soffrono un po' di meno o comunque vengono finanziati di più senza entrare nel perché nel per come che non ci interessa qua vediamo sempre il servet per citare una stessa fonte cosa dice di questi settori che consideriamo in crescita vediamo commercio online si stima un aumento del 55% distribuzione alimentare in grosso prodotti farmaceutici e medicali 22-13% apparecchi medicali 10% farma farma lavanderia industriale canteristica si prevede un aumento gas industriale e medicali produzione di ortofrutta quindi tutti i beni primari potrebbero giovarne queste sono delle analisi ora vediamo un po' come possiamo guadagnarci ho identificato quattro modalità quattro possibilità per andare a guadagnare da questa situazione allora il primo è il trading di posizione che cos'è il trading di posizione è quel trading che viene in Italia chiamato da cassettisti cioè compro oggi perché poi rivendo fra un anno due anni tre anni cinque anni perché credo che l'azione comunque crescerà l'azione l'asset l'edf bene a me piace molto questa situazione secondo me è estremamente interessante però facciamo qualche condivisione qualche idea su questo prima di entrare nello specifico abbiamo visto in questo momento due tipologie di settori o meglio due macro situazioni abbiamo visto settori che stanno andando molto bene e settori che stanno andando molto male su quali conviene investire qualcuno potrebbe dire ma è molto semplice su quelli che stanno andando bene lo so già investo lì in realtà no perché è tardi noi dobbiamo imparare a non fare come la casalinga di voghera o come chi ha comprato bitcoin a 20.000 come una volta ero in una in un'osteria questo è assurdo ero in un'osteria bitcoin a 19.000 e a fianco a me c'erano degli anziani avranno avuto 70 anni 65 anni e parlavano di bitcoin non facciamo come loro perché poi abbiamo visto cosa è successo crollo ora ci sono dei settori che stanno andando molto bene ma stanno sfruttando questo momento che è già partito cioè chi doveva fare i soldi su quei settori li ha già fatti e magari crescono ancora fanno ancora un 10-15% fa niente vuol dire entra sui massimi freghiamocene lasciamoli andare noi vogliamo invece comprare sui ribassi vogliamo comprare solo a paura vogliamo comprare dove la tutti stanno vendendo perché è il momento migliore dove si fanno gli affari più ghiotti quindi paradossalmente qua andremo a ragionare molto su azioni che sono stanche tanto vendute andremo a ragionare molto su etf che hanno subito questo momento che magari lo subiranno ancora però ci interessa di più comprare qualcosa che è sconto magari in questo momento rispetto a una scommessa sicura ma sicura non perché porterà profitti ma perché l'abbiamo visto nel passato e visto che noi non possiamo tornare dietro nel tempo quel trend o l'abbiamo preso o non l'abbiamo preso ce lo scordiamo noi vogliamo investire su quello che sarà il nuovo trend dobbiamo prevederlo questo fa un investitore e già con questo potremmo chiudere il webinar perché cosa fa la stragrande maggior parte degli investitori quando sente che un trend è partito dice oddio oddio rischio di perdere l'affare investo e poi è sui massimi e scende e vende oddio oddio paura paura ho venduto e poi aspetta il nuovo bitcoin a 19 mila oddio sta salendo l'ho sentito da tutti e si trova sempre a prenderlo nel culo mentre dobbiamo fare il contrario dobbiamo fare quello che non fa la massa perché se magari l'avete sentito che in borsa il 90% dei traders perde perde perché si va a prendere dall'emotività e investe quando è alto e vende quando è basso noi faremo il contrario il secondo punto il secondo suggerimento che mi sento di condividere è questo è quello di acquistare a scaglioni di prezzo se qualcuno condividerà alcune analisi che faremo insieme non compre tutto subito se ha deciso di destinare 5.000 euro 10.000 euro 20.000 euro all'operatività di posizione non metteteli ora perché probabilmente noi li abbiamo ancora visti i minimi probabilmente i prezzi saranno ancora più bassi perché dico probabilmente ma perché banalmente non lo so non lo so e neanche mi interessa quindi io cosa faccio scagliono il capitale che ho deciso di destinare a questo investimento in più pezzi quindi compro un pochettino oggi magari un quarto oggi un quarto lo tengo da parte se i prezzi sono ancora migliori tra tre mesi un quarto lo tengo ancora da parte e un quarto lo tengo ancora da parte così intelligente perché noi possiamo fare due cose o provare a prevedere il futuro cosa che tendenzialmente non esiste non lo sa far nessuno oppure provare a dire oggi i prezzi sono buoni ma compro tanto non è un casco di banane che lo tengo lì e scade i prezzi sono buoni oggi se quando li ho comprati pensavo che erano buoni se domani sono ancora più bassi sono ancora migliori cioè la logica è questa non vanno a male i titoli chi fa trading di posizione non gli interessa cosa succede fra un mese gli interessa cosa succede fra 4-5 anni e se prezzi scendono ancora ma tanto meglio soprattutto se mi sono tenuto abbastanza riserve per comprare e questo è molto importante il terzo suggerimento che mi sento di condividere invece è quello di avere un portapoglio diversificato e lo vedremo oggi in due modalità sia per macro settori che per strumenti per macro settori cosa vuol dire che bisogna avere non so settori della difesa dobbiamo avere è ben essenziale dobbiamo avere questo questo e quest'altro poi andremo a vedere quali secondo me sono interessanti come settori oggi ma dobbiamo averli tutti se uno mi dice ma posso comprarne solo uno cosa faccio? non fare niente prendi quei soldi e spendili per qualcos'altro perché non ha senso? perché ti prendi un rischio talmente alto che ti farai male eh ma dimmi qual è il migliore non lo so qual è il migliore non ne ho assolutamente idea la strategia è ottima ma non so quale di questi cavalli correrà più veloce degli altri mi interessa creare la mia scacchiera e dire ok vai giochiamo però non so quale pedina mi farà fare scacco matto non so se comprendete molti traders perdono molti investitori perdono in borsa perché cercano mettono tutte le uova su un paniere e dicono ah questo sarà quello vincente ma non lo sai c'è una normativa un cambio di paradigma un cambio delle abitudini ti fa distruggere quel settore non lo puoi sapere quindi noi dobbiamo diversificare per macro settori ma anche per strumenti questa è la mia visione poi uno può condividerla o non condividerla io faccio così solitamente e qua già vi sto svelando un po' la chiave dei miei segreti di borsa poi segreti insomma però è un modo che ho sentito poco utilizzare io faccio così ipotizzo quale può essere un settore che immagino crescerà supponiamo ma io vedo io penso che il settore del bio crescerà bene vado a comprare tutto il settore in che modo tramite degli etf che cosa sono degli etf per chi non lo sa degli etf sono degli strumenti finanziari immaginate come dei panieri ok come un immaginiamo un etf su sull'acqua è un paniere ok è un sacco dove vengono messi dentro tutti tutte le aziende che investono che hanno a che fare con quel settore con l'acqua per esempio quindi se io compro un etf sull'acqua magari sto comprando contemporaneamente con un solo strumento una piccola quota di centinaia di aziende quindi cosa vuol dire che sto comprando il settore sostanzialmente che sto comprando il settore che sto comprando lo stato che sto comprando un tema specifico quando invece sto comprando un'azione compro quell'azione compro quell'azienda qual è la differenza? la differenza è questa è che se compro il settore ci saranno aziende all'interno che vanno bene e aziende che vanno male è chiaro che se il settore è destinato a crescere comunque un po' tutte le aziende che sono all'interno tenderanno a giovarne della spinta però alcune cresceranno di più alcune meno alcune perché gestite male decresceranno se invece compro un'azienda specifica magari ho trovato l'azienda che è quella che è crescita più di tutte magari però ho trovato l'azienda che zoppa ho trovato quindi quell'azienda che va male per n motivi e quindi posso farmi più posso guadagnare di più con la singola azione o posso perder di più cosa faccio di solito? compro tutto il settore con il 70% del capitale che ho destinato a quell'asset e poi il 30% o il 20% lo destino alle aziende specifiche esempio torniamo all'acqua secondo me nei prossimi anni ed è la verità ve lo vedremo l'acqua inizierà ad essere un problema inizierà ad essere un problema inizierà ad essere scarsa inizierà ad essere inquinata e quindi le aziende che produrranno depuratori d'acqua le aziende che produrranno dei macchinari per estrarre l'acqua dagli oceani aziende che produrranno acqua in bottiglia cresceranno cosa faccio compro non so voglio mettere 1000 euro su questa scommessa su questo paniere perché ho 10.000 euro le ho messi 9.000 su altre robe mi avanza a 1000 li metto sull'acqua come l'80% lo metto comprando tutto il mercato e il 20% se voglio fare una scommessa un po' più aggressiva ma tanto è già diversificata e coperta lo metto su 3-4 aziende che all'interno di quel settore mi sembrano più promettenti perché sottovalutate perché tecnicamente più interessanti e per altri motivi io investo così e ora lo vediamo allora vi ho riportato cosa succede qua adesso vi racconto alcuni investimenti che mi sembrano interessanti in questo momento ETF poi vediamo qualche azione specifica e poi andiamo a vedere gli altri metodi di guadagno vediamo alcuni settori che potrebbero essere interessanti oggi interessanti oggi per domani che non vuol dire fra una settimana fra un mese o fra un anno ma vuol dire per domani fra 5 anni tra 3 anni tra 10 anni vuol dire che oggi mi aspetto che hanno un prezzo più basso di un domani ipotetico vuol dire che mi aspetto nuovi massimi rispetto ad oggi non so se questi sono i minimi ma tanto acquisterò acquistato una piccola parte del mio portafoglio voglio mettere 100.000 euro adesso ne metto 25 25.000 divisi così poi ne metterò altri 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 e se poi il mercato continua a salire e non scende più avrò guadagnato con quei 25.000 euro avrò preso i minimi va bene non dobbiamo diventare matti e correre dietro i massimi i minimi non impazziamo non ci interessa allora settori un settore interessante sicuramente è quello dell'energia green delle energie rinnovabili e anche dell'acqua l'ho già detto siccome è uno dei settori che crescerà di più in assoluto da qui ai prossimi 10 anni tristemente sarà il settore dell'acqua per i motivi che abbiamo visto prima l'acqua è sempre più inquinata l'acqua bisogna sempre di più di lavoro ci sono degli etf dei panieri che investono su tutte le aziende che hanno a che fare con l'acqua e sono questi poi vi mandiamo le slide quindi non segnatevi non diventate matti vi le mandiamo iShare Global Water le X Award Water sono due strumenti due etf creati da diverse società che sono entrambi due panieri quindi non serve comprarli entrambi se uno vuole investire sull'acqua guarda quello che ha meno commissioni secondo me è l'X Award Water è più interessante lo compra e compra tutto il paniere è inutile comprarli entrambi pensando di diversificare perché tanto interne hanno quasi tutte e due le stesse azioni quindi basta uno energie rinnovabili energie rinnovabili è un settore interessante perché io credo che ci accorgeremo presto già ce lo stiamo accorgendo che così non va bene così non va bene quindi il rinnovabile avrà sempre più interesse perciò compriamolo io l'ho acquistato telecomunicazioni stanno giovando da questo momento nel senso che la gente consuma più banda ma pensate quanta gente che di solito non sta tutto il giorno attaccata al telefono e usa i 3G che quanti ne stanno utilizzando in più in questo momento tanti eppure sono crollate alcune aziende quindi è interessante questi qua sono alcuni etf per comprare il settore ok etf global cosa sono etf global è andare ad acquistare invece non un settore tematico io sono un fan dei settori tematici ma comprare uno stato o comprare tutte le azioni del mondo perché in quel caso su cosa stiamo scommettendo stiamo scommettendo che uno stato prima o poi si riprenderà o che il mondo prima o poi si riprenderà e ci sta vero in portafoglio perché se uno dice ma secondo me l'America è crollata abbastanza bene compro l'America in questo caso ci sono due etf interessanti e share core sp500 o un vanguard o comunque molti altri ce ne sono tantissimi uno interessante invece è l'i share msg quello riguardo tutta la parte global quindi su il mondo sostanzialmente dove ecco è più avanti o non l'ho messo non mi ricordo vabbè c'è un etf che è un etf world share il che significa che acquistando un solo etf qui probabilmente l'ho messo due volte in emergenti però dove c'è scritto diversificati global intendevo quello ve lo dico adesso è l'i share o msc world markets ossia è un etf che comprando solo quello ti permette di acquistare praticamente tutte le principali aziende del mondo quindi è lo strumento più diversificato in assoluto comprenderete quando lo posso utilizzare quando lo posso acquistare quando immagino sostanzialmente che il mondo è arrivato al suo appicio di ribasso e prima o poi crescerà ma cresce più l'America cresce più la Cina non mi interessa li sto comprando tutti è chiaro che guadagnerò un po' di meno che azzeccando il paese che cresce più velocemente però ho una diversificazione tale da star tranquillo da star sereno oppure possiamo pensare no secondo me cresce di più l'America bene compro un etf sull'America o magari compro entrambi compro un etf globale poi compro un etf sull'America un etf che potrebbe essere interessante è quello sui paesi del BRIC perché sono paesi emergenti più occidentalizzati piano piano e c'è l'Ishare BRIC 50 che non è male altri paesi interessanti potrebbero essere Arabia Saudita Vietnam Cina o un paese particolare l'Africa che prima o poi dovrà essere un paese che correrà io mi aspetto che prima o poi ci troveremo anche a la Cina sta investendo tantissimo in Africa mi aspetto che presto avrà delle opportunità altre situazioni interessanti sono queste commodity come faccio a investire sulle commodity o compro lo strumento singolo o compro un etf probabilmente è la cosa più intelligente in quel caso dovremmo parlare di etc comunque oil il petrolio è da comprare il petrolio è un prezzo estremamente interessante per i motivi che abbiamo visto prima un etf che io ho comprato è il windows tree uiti crude oil sostanzialmente e ti permette di comprare petrolio un etf il silver il silver era un prezzo interessantissimo quando ho fatto le slagieri era un prezzo ancora migliore però è un bel prezzo il gold ci sta ad avere in portafoglio perché ti proteggi ti aggia un po' il litio il litio io vi aspetto tanto dal litio per un motivo specifico perché il litio viene utilizzato sostanzialmente molto per la parte di energie rinnovabili e per autoelettriche Tesla nei prossimi anni si supererà questa crisi come ci aspettiamo tutti deve costruire un po' di macchine e altre società si stanno buttando sostanzialmente su quello che è l'elettrico che sfruttano lo stesso modello di archivi di energia e quindi di batterie il litio è un materiale comunque esauribile non è infinito e quindi se molte aziende e se è rinnovabile se è elettrico continuerà a crescere ma probabilmente inizierà a scarseggiare e quindi potrebbe aumentare di valore è un'idea pensatela contestualizzatela altro ETF interessante sulle commodity può essere comprare tutto quindi ci sono degli ETF che ci permettono di comprare tutte le commodity con un solo strumento quindi io compro esempio il più famoso Longer Dated All Commodity comprando quel solo strumento sto comprando olio petrolio argento oro sto comprando rame sto comprando il legno sto comprando il grano è interessante l'avere il portafoglio non è male gaming e tech gaming e tech è interessante abbiamo visto prima cavolo sono dei settori che stanno che stanno giovando di più sì però sono crollate lo stesso in alcuni casi quindi ne gioveranno nel senso che sono crollati un po' anche per correlazione però in realtà stanno aumentando quelle aziende stanno andando obiettivamente in alcuni lati del suo settore cioè quello più operativo quello più utilizzato i giochi effettivamente cresceranno stanno avendo molte più persone online quindi interessante sono interessanti da avere il portafoglio in buon momento gaming abbiamo esempio Vanek Vectors video gaming ed esports gli esports lo sappiamo tutti settore in espansione straordinaria e magari questo momento di mercato ci fa comprendere che gli esports sono interessanti quarantena si possono giocare mentre obiettivamente una parte di calcio no robotica la robotica qualcuno concorderà con me può essere il futuro la blockchain è interessante però abbiamo messo alcuni etf che si possono acquistare che avere il portafoglio non fa male pharma e health care interessante health care quindi la parte medicale si possono comprare le aziende che investono nel settore medicale a livello di innovation quindi health care innovation come etf oppure comprare le aziende che investono a 360 gradi sull'aspetto di health care è interessante un settore interessante ancora di più a mio parere all'interno del medicale è quello sulla terza età quindi facciamola brutta nel mondo l'età media aumenta sempre di più ci sono sempre più anziani che hanno bisogno di cure hanno bisogno di casi di riposo hanno bisogno di farmaci specifici per forza di cose è un settore che crescerà se siamo d'accordo che l'uomo aumenterà a livello di aspettativa di vita probabilmente i servizi per gli anziani cresceranno diventeranno sempre più un business importante e perché non comprarlo allora in questo caso c'è un etf che lavora proprio su questo la difesa la difesa è un tema importante è un tema particolare qualcuno può dire no io non lo compro non la compro per principio perché sono per la pace a tutti i costi ci sta io lo condivido è giusto però è in dubbio almeno a livello ideale sapere che è un settore anticiclico che quando ci sono crisi guerre o situazioni che potrebbero finire in guerra crescono è un settore che cresce quindi qua ho messo due etf sulla aeronautica e la difesa militare quindi sono etf che investono su tutte quelle aziende che producono armi uno può essere a favore contro però deve sapere che è uno di quei trend anticiclici che quando tutto va male questi crescono perché ognuno parla le sue conclusioni beni primari beni primari ci sono questi due quindi quello che abbiamo visto prima sono i beni primari un altro etf particolare è comprare la volatilità non lo fa nessuno però a volte salva le chiappe noi ce l'avevamo in portafoglio col 5% quando è crollato tutto abbiamo fatto il 2000% perché l'abbiamo comprato a leva era un momento in cui andava a comprato a leva ora non ha senso comprarlo a leva ed è anche un pochettino alto ma tutti quelli sopra sono a buon prezzo questo è un pochettino alto però gli stati stanno riempendo di volatilità stanno riempendo di liquidità i mercati oggi il MIB ha fatto l'8% che però ci possiamo aspettare ci possiamo aspettare che da qui a qualche giorno per ancora un po' di giorni i mercati salgano non perché va tutto bene va tutto male però se ci butti liquidità e compri titoli i mercati salgono e quindi la volatilità diminuisce e quindi può essere un buon momento per comprare volatilità così che quando i mercati scenderanno ancora il nostro ETF sulla volatilità avrà raggiunto prezzi interessanti ci protegge una parte del portafoglio e poi gli altri sono scesi magari abbiamo nuovi minimi meglio posso comprare con l'altra parte di capitale che mi ero messo da parte compro ancora più a sconto devo essere contento non devo disperare se sto perdendo con una piccola parte del capitale ne ho talmente tanto libero da utilizzare è tanta roba ora andiamo avanti società nel mirino ora andiamo a vedere qualche società che è potenzialmente interessante o aziende specifiche ok sono interessanti quindi va ah le ho detto che sono interessanti le compro tutte ma no una cavolata hanno senso solo se crei un portafoglio di ETF diversificato viene con un cippino all'interno di quel paniere puoi comprarle se non c'è un paniere diversificato non te ne fai nulla è una cavolata comprarle anche se poi magari guadagni qualcosina ma ti prendi un rischio talmente alto che è una cavolata statisticamente Disney conosciamo tutti Disney oggi è uscito Disney più oggi è uscito Disney più e mi aspetto belle cose perché Disney è crollato? Disney è crollato perché il 40% del suo fatturato viene dai parchi di divertimento che ovviamente sono chiusi quindi ha il 40% delle linee di business ferme ma io mi aspetto che utilizzerà questo momento per spingere molto la parte di Disney plus di Disney più e quindi anche aumenteranno i suoi introiti aumenteranno i suoi introiti e poi prima o poi i parchi riapriranno e la gente non è che non ci andrà Disney a Disney a Disney a Paris a Disney qua e là ci andrà magari con un po' più con calma e infatti in questa fase spingeranno un po' più sullo streaming dove comunque avranno utili però prima o poi la gente che ci tornerà e oggi Disney è un prezzo interessante guardate che bel crollo e poi Disney è un brand solido cioè ma supponiamo che vanno male anche tutti i parchi che la gente non esce più non ci va più cioè Disney non ha il brand su quei parchi cioè che se fallisce Disney a Paris è fallita Disney perché nella mente delle persone Disney è Frozen Disney è Topolino Paperino che se li riusano in mille modi se li riusano in Disney Plus se li riusano sulle magliette merchandising libri e quant'altro quindi i brand effettivi di Disney cioè i brand fisici di Disney che sono i propri cartoni che ha creato non ne risentono di questa crisi Paperino non ne risente della crisi del coronavirus ne risentono i parchi ma i veri brand il vero valore di Disney rimane intatto quindi da comprare secondo me Mediaset potrebbe essere interessante io l'ho detto qualche tempo fa e infatti è già salito un po' perché è interessante perché la gente è a casa per due motivi uno sta aumentando gli ascolti aumentano gli ascolti aumentano le pubblicità aumentano i soldi perché la gente a casa si guarda Barbara Durs si guardano le varie cose e è così i telegiornali ce li guardiamo io non me li guardo però quanta gente in questi giorni è lì tutto il giorno a fare il zapping su SkyTG24 sui robbi di Mediaset lì TG24 e poi la crescita internazionale sta andando bene in questi giorni Mediaset che è aperto anche in Germania e Spagna sta prendendo punti sta prendendo punti importanti sta facendo scelte strategiche Mediaset è interessante a questi prezzi è interessante Levis Levis ha un paio i motivi di Disney secondo me è interessante al momento più basso in assoluto dal punto di vista dall'ipo dalla quotazione non so se li vedremo ancora a questi prezzi è una delle azioni che è crollata di più in assoluto nel paniere secondo me non è male è interessante Levis che è quella che produce vestiti, jeans e quant'altro Facebook c'è poco da dire Facebook investe nei settori che ne interessano Facebook intanto sta avendo un aumento di traffico e sappiamo cosa vuol dire aumento di traffico aumento delle pubblicità aumento di dati che venderà un domani aumento di dati con il quale potrà costruire tools per venderci cose è un buon prezzo poi perché Facebook perché Facebook investe in maniera straordinaria nel gaming pensate a Oculus gaming robotica Facebook nei dati Facebook è un settore interessante a questi prezzi interessanti altre aziende in osservazione beh Eni è un'azienda interessante a questi prezzi siamo a 7 dollari in redazione non è facile vederla a prezzi più bassi Leonardo un'azienda che è crollata tantissimo ha perso un 50% un'azienda italiana nel settore della difesa elicotteri e quant'altro intesa San Paolo comunque che se ne dica ha una certa stabilità e a questi prezzi non è male idea di diversificazione allora intanto quello che vi ho già detto investimento si fa a tre scaglioni quindi scaglione 1 posso investire oggi ma sì perché no o a tre o a quattro scaglioni decidetelo voi se fate a tre scaglioni avete 10.000 euro oggi investite 3.333 euro fate quello che volete sui vari settori dovete diversificare e poi man mano che scendono settatevi già dei livelli per cosa vuol dire quando scendono non è che se perdi l'1% e rinvesti magari quando perdi un 20% dici ogni volta che perdono un 20% io metto l'altro 33% ci sta non è male una bella idea non l'1 non il 2 non il 5 deve scendere bene facciamole scendere e poi o 3 o 4 scaglioni l'altra idea di diversificazione è per panieri dovete diversificare per panieri questa è un'idea devo fare così ma non è detto anzi assolutamente non è detto io ho fatto così però valutate voi in base a se condividete le idee se non le condividete ma no secondo me questo è una cagata scenderà ma secondo me l'acqua figurati ce la danno gratis io a me mi scendo dal robinetto non succederà mai non la compro ci sta ci sta benissimo è bello condividere idee e opinioni su questo argomento anche se è bello della borsa che poi le opinioni non contano è interessante opzione numero 2 per guadagnare soldi qual è? il trading speculativo che è molto diverso dal trading di posizione il trading speculativo è un'azione di trading quindi di compraviguita di strumenti finanziari dove è possibile guadagnare sia al rialzo che al ribasso anche in traday quindi è quando vai a fare quelle operazioni di borsa o più spesso magari di forex o di altri asset che compri e vendi durante la giornata o dopo 2-3 giorni oppure li vendi e poi li ricompri dove scommetti il rialzo scommetti il ribasso l'uso scommetti nonostante non è la parola giusta però fa passare bene il concetto e quello può essere interessante sostanzialmente il trading è sempre interessante perché se ne frega cioè se le borse crollano e sono ribasso ma me ne frego ci guadono un sacco di soldi se le borse il forex in queste situazioni non è che ne ha risentito particolarmente noi stiamo incassando stiamo guadagnando perché è più un discorso tecnico quando guardi nell'intraday magari il macro ti interessa poco guardi il grafico quando avvengono determinati pattern entri o esci in quel caso è più statistica applicata che aver ragione su quali settori cresceranno importanti tre cose però dovete se volete fare trading speculativo dovete fare dei corsi dovete seguire delle regole e imparare delle strategie non discrezionali cioè che hanno delle regole fisse e delle regole ferre se qualcuno vi dice vi insegna qualcosa vi dice beh devi applicarlo devi sentirlo devi bah devi un po' farlo tu il trading è come un'arte è una cazzata vi sta truffando è una cavolata il trading è solamente statistica il trading è scienza quindi le strategie che imparate che dovete applicare devono avere una base statistica un risk reward positivo cioè quando devono avere queste tre cose non essere discrezionali cioè devono avere delle regole ferre che se vuole applicate guadagnate se non le applicate non guadagnate devono avere uno storico comprovato cioè chi vi sta dicendo questa strategia funziona o se la state imparando voi se la state creando voi dovete guardare i tre, quattro, cinque anni precedenti ha funzionato? sì, bene quante volte ha funzionato? una, due, tre volte su dieci cinque, sette volte su dieci bene e poi dovete vedere il risk reward cioè quante volte perdo quanto perdo quando perdo quanto guadagno quanto guadagno perché? se una strategia funziona una volta su due quindi anche con il lancio della monetina ma quando perdo perdo uno e quando guadagno guadagno tre è una bella strategia utilizziamola funziona per fare soldi ok? importante idea numero tre siamo a conclusione quasi idea numero tre è un'idea particolare è un'idea che che ho avuto in questi giorni devo ancora studiarla però condividiamola perché secondo me possono uscire belle idee lo spread trading sul coronavirus cosa vuol dire in questo questo momento storico apre a molte possibilità una tra queste potrebbe essere mettere in essere operazione di spread trading intanto cos'è lo spread trading è comprare o vendere nello stesso momento delle degli strumenti che tendenzialmente si muovono uguali però per alcune circostanze possono differenziare faccio un esempio potrei pensare di guadagnare dalla differenza tra quei paesi che stanno raggiungendo il picco dell'epidemia e quei paesi che sono solo all'inizio della crescita dei contagi esponenziali è bello è brutto ma non lo so però è un'idea faccio un esempio la Cina in questo momento forse l'epidemia l'ha vissuta quindi potrei pensare di comprarla mentre l'America il grosso deve ancora arrivare quindi potrei venderla è un'idea ragionateci piano di accumulo che cos'è un piano di accumulo? un piano di accumulo è un piano che mi faccio finanziario su uno strumento dove vado a comprarlo ed accumularlo appunto mese per mese ogni tre mesi ogni sei mesi ossia io dico ma secondo me da qui a dieci anni siccome l'SP500 cioè l'America è sempre cresciuta in un lasso di tempo di dieci anni voglio farla scommessa la compro però non voglio comprarla subito ho pochi soldi oppure voglio che quello sia l'investimento della mia pensione da qui a vent'anni l'America sarà più alta di oggi bene posso pensare ogni mese di investire 100 euro su quell'etf ogni mese a prescindere dal prezzo non mi interessa che prezzo è oggi metto 100 euro fra un mese ne metto 100 fra due mesi ne metto 100 fra tre mesi ne metto 100 fra vent'anni ho messo X se effettivamente ho avuto ragione e storicamente i mercati hanno fatto sempre un 7% sul lungo periodo tra vent'anni avrò sfruttato l'interesse composto bene avrò comprato dimezzando il rischio perché compro sempre a livelli diversi quindi diventa ponderato il mio acquisto è interessante ed è sicuramente un ottimo momento chi ha iniziato piani di accumulo qualche mese fa bah dio si è fatto male no in realtà no perché tanto immaginate uno che ha comprato che ha iniziato un piano di accumulo quattro mesi fa e vabbè in perdita del 30% però si deve andare avanti per vent'anni neanche se non ricorderà più però oggi è un momento ancora migliore rispetto a chi l'ha iniziato tre mesi fa importante sul piano di accumulo uno comprendere le commissioni perché se tu utilizzi una piattaforma che ti chiede 20 euro per ogni operazione e metti 100 euro al mese vuol dire che ogni mese si è in perdita del 20% ha senso? no è una cagata quindi trovate un'azienda una società un intermediario che ha commissioni basse 3-4 euro ce ne sono tanti finico se fissi il piano di accumulo mi pare che ha 5 euro non è male del giro è basso sono piattaforme interessanti quindi questo è importante se comunque volete mettere troppo poco rispetto alle commissioni invece che investire ogni mese investite l'importo ogni tre mesi non c'è problema punto numero 2 dovete creare un piano ferro ossia un piano che rispettate cioè oggi dite io voglio investire 100 euro al mese su quest'asset deve essere un asset a basso rischio quindi o sulle borse mondiali o sull'SP500 poi vi dico cosa ho fatto io però deve essere su cose stabili poco rischiosi cose che hanno delle basi importanti dovete creare un piano quindi dite io voglio arrivare e faccio questo piano di accumulo perché è la mia pensione quindi lo faccio per 20 anni io faccio questo piano di accumulo perché fra 15 anni voglio comprarmi la casa va bene ci sta dovete darvi una tempistica decidere quanto mettere ogni mese fare dei calcoli delle previsioni positive o negative e rispettarlo qualunque cosa succeda dovete definire l'obiettivo economico e definire una scadenza temporale cosa ho fatto io col piano di accumulo ho fatto una cosa abbastanza semplice io ne ho due immaginate che voglio investire ogni mese 1000 euro ok tanto tantissimo troppo però immaginate per farla semplice che voi investite 1000 euro su un piano di accumulo che io abbia investito 1000 euro al mese su un piano di accumulo io l'ho spezzato in due parti ne ho fatti due ho due piani di accumulo il 70% ce l'ho sulle borse mondiali ce l'ho su WorldShare il 30% sui mercati emergenti sarà quello più rischioso? sì però probabilmente sarà quello che potrebbe rendermi di più e vabbè insomma questa è una condivisione siamo arrivati alla fine del mio intervento siamo arrivati alla fine del mio intervento che spero vi sia piaciuto poi resto a disposizione per le domande allora Cobra dice prima avevi accennato un discorso su Tesla la classifica ancora una società stabile ma io non l'ho mai classificato una società stabile però diciamo che ha aperto un mercato ha aperto un mercato secondo me Tesla è interessante è tornato a livelli discreti però secondo me è salita già abbastanza quindi perché sono arrivato all'ETF sul litio? perché un giorno mi sono detto ma Tesla è interessante però è a 700 dollari ma chi la compra? non ha senso quali possono essere quelle aziende da cui si può guadagnare parallelamente le aziende che producono litio e ora ve ne sparo una però fatevi i vostri ragionamenti pensate a Panasonic Panasonic è un'azienda molto attiva nel litio nelle batterie e ha chiuso o chiuderà sta chiudendo un accordo con Tesla per creare le gigafactory eh Panasonic vale ancora poco potrebbe essere un'idea cosa ne penso di Moneyfarm allora non ho visto come hanno retto questo crollo magari me lo dici tu Matteo però sono un'azienda interessante Moneyfarm per risparmio gestito in Italia probabilmente sono tra le più interessanti io sono sempre per gestire personalmente i capitali perché secondo me ti cambia la vita però loro sono bravi mi piacciono dimmi fai non lo conosco che broker utilizzi? io utilizzo Bink Bink Bank è una banca comprata comprata da Saxo Bank recentemente interessante a commissioni alte ve lo dico già a commissioni alte però se compri grossi importi non è un problema ma lo utilizzo soprattutto perché nonostante a commissioni alte ha tutti gli strumenti in assoluto a me mi capita di fare investimenti di comprare azioni del mercato OTC Penny Stock sono aziende che valgono poco su mezzi di spazzatura ma che possono fare numeri importanti Bink ce li ha e poche altre aziende le hanno quindi dipende un po' cosa devi comprare si ricompare le azioni normali ma non conviene Bink conviene qualcosa con commissioni più basse come si prendono l'atto pratico gli ETF ti apri Dario una piattaforma un intermediario finanziario anche la tua banca probabilmente Fineco lo fa WeBank lo fa DeGiro DeGiro è una piattaforma interbancaria con le commissioni più basse in assoluto ti apri un conto mandi i tuoi soldi una volta che hai depresato i soldi scrivi l'etf che vuoi comprare su cerca scrivi quanto ne vuoi comprare fai invio scegli se vuoi comprarle a un prezzo specifico oppure al prezzo migliore che c'è e te lo compri Allora Social trading ma ma Marco mi chiede cosa ne pensi del social trading non lo so non lo so perché dipende chi è il trader può essere bravo può essere scarso ha 5 anni di storico e 5 anni che fa guadagnare ottimo va bene puoi seguirlo con una parte ad altissimo rischio del tuo patrimonio perché magari questo domani diventa matto tu non lo sai magari gli prendi un esaurimento o diventa pazzo perché la voglia ha tradito non lo sai quindi alto rischio rischia poco Allora Ale dice domanda utilizzi dei criteri specifici per capire qual è il migliore etf di un determinato settore Sni sì abbastanza allora guardo intanto se il fondo è capitalizzato devo avere almeno dai insomma 30 40 almeno 50 milioni di capitalizzazione deve essere un fondo serio deve essere creato da società serie da quelle più grosse le XOR beh le so le XTracer quelle più grosse e quindi fondo capitalizzato almeno 30 50 milioni è diversificato come piace a me io tendenzialmente non guadagno coi dividendi quindi lo cerco sempre ad accumulazione e a commissioni a parità di diversificazione e grandezza del fondo a commissioni basse Enrico io ho un pack su global grow e un portafoglio composto prevalentemente da mercati emergenti se tu avessi 1000 euro con quanti tf titoli a partiresti tutti con più possibili sostanzialmente alcuni tf costano 50 euro quindi io lo comprerei stiamo attenti magari alle commissioni potrebbe essere interessante comprare il petrolio oggi e se nel caso andrà tutto in elettrico ma allora il petrolio sì sicuramente interessante andrà tutto in elettrico potenzialmente possibile però ti risponde in due modi il primo credo che prima che andrà tutto in elettrico il petrolio tornerà a 30-40 dollari quindi ce ne freghiamo in secondo luogo comunque noi abbiamo visto che in commodity abbiamo destiniamo un 5-7% quindi del petrolio quanto sarà il 2% il 3% ma se andrà tutto in elettrico il petrolio magari mi ha perso la metà sono almeno 1-5% se invece l'etf sulle energie rinnovabili che magari ho messo anche lì il 3% il 5% mi ha fatto il 50% sono in profitto quindi dipende anche lì da come diversifichi non è tanto importante cosa accade è contro il portafoglio DeGiro come broker a commissioni accettabili chiede Cobra sì assolutamente sì ce ne sono di migliori secondo me no dipende quello che devi fare come commissioni DeGiro è il migliore come asset non ce li ha tutti tutti ok Nicola dice però e Toro ha commissioni alte e Toro non è un buon broker e Toro non è un buon broker perché non è un buon broker perché è un broker market maker se non erro se non ha cambiato quando compri tu compri dei CFD quindi compri dei derivati delle azioni infatti spesso le compri a leva e quindi ha commissioni alte vai su piattaforme serie Toro è tra le peggiori che possa esistere andiamo avanti Ale sul piano di accumulo mi dice Pietro tipo il suo SP500 quando rivendere per non incappare in quello che è successo in questo periodo dipende dai tuoi obiettivi se tu il tuo obiettivo è arrivare a 50.000 euro fra 20 anni e quando arrivi a 50.000 euro fra 20 anni tanto i mercati croreano sempre di un 30% ogni tanto se pampi alla culo non ti interessa perché alcune robe saranno in profitto alcuni alcuni pezzi di ETF che hai comprato a prezzi inferiori come oggi sarà in profitto gli ultimi saranno in perdita però il grosso se hai fatto per abbastanza tempo sei sempre in profitto Massimiliano mi dice cosa ne pensi di Bayon Meat non ne ho propria idea mi interessa il progetto è interessante hanno fatto un lancio fantastico perché dai Bayon Meat sono usciti sul mercato e nell'arco di tre mesi avevano già avuto gli accordi ma non li hanno firmati in quel momento gli accordi erano già a priori immaginate proprio un lancio di prodotto per esempio Bayon Meat ha proprio fatto usciti sul mercato e aveva già tutti gli step pronti ed è esplosa il progetto è interessante il prodotto è interessante hanno fatto hype iniziale troppa però non è un'azienda che valuta non è non sono in grado di valutare lei ha detto una roba figa ha detto cosa ne pensi del settore adult come settore da comprare perché c'era qualche azienda di settore adult e porno votata non le ho mai valutate domani vi do un occhio questa è bella me lo segno me lo segno subito ok Iero quello che ho appena visto è stato come abbiamo investito da marzo fino più o meno a luglio agosto fino all'inizio settembre in realtà come hai potuto vedere abbiamo comprato praticamente i mercati sui minimi non pensavamo fossero quelli i minimi bisogna essere onesti infatti siamo entrati al mercato con una parte di sides con mezza sides e poi avremmo acquistato ancora se la problematica si fosse protratta quindi se i mercati avessero continuato a scendere ah ma non abbiamo investito il 100% dei nostri risori se un investitore deve essere anche in grado di prevedere il peggio assoluto quindi questo è quello che abbiamo fatto ma con le posizioni in cui siamo entrati al mercato comunque con una buona fetta del portafoglio abbiamo ottenuto profitto abbiamo fatto praticamente il 40% siamo entrati praticamente sui minimi ottima anche l'intuizione sull'argento di cui vado veramente fiero sono molto contento l'argento è ancora un'opportunità probabilmente per il prossimo anno ma tutti i dettagli te li spiegherò e ti racconterò nel caso vorrai partecipare all'interno della Masterclass dove investire nel 2021 trovi qua sotto il link per iscriverti se ci sarai ci vediamo in diretta altrimenti continua a seguire questo canale e mi raccomando iscriviti ciao 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 Grazie.